Sono appena rientrato in casa, fuori nevi che ha piove, non si capisce niente, comunque il mio eroe di oggi è questa persona qua che vedrete ora in questo video, pazzesco, qua. Di mobile, cosa fa? Il mobile, questo è fuori, ci sono rimasto perso, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, hop, niente. Sì, ma guardate che ruota. E io prima di iniziare a registrare l'ho guardato almeno per 30-40 secondi. La gente passa, lui è immobile. Ma stupenda sta cosa, non l'hai vista in vita mia. Ma dovrei andare via a toccarlo, fare qualcosa. C'è un problema. Mamma mia, non ci posso credere. Non l'hai vista, non l'hai vista, non c'è il genere. La gente è fuori, completa. Questa è addormentato. Da chi si sveglia, da chi si sveglia. Io continuo, eh. Continuo. Non è un gioco, eh. Non sto scherzando. Cioè, è davanti a casa mia, fermo il mobile così. Notare la scritta sul muro, vogliamo che si svegli. Sì. Vado in zoom, fa talmente freddo che mi trema la mano. Questo è il massimo dello zoom che posso fare. Un tizio passa in b, ce lo guarda. Hop, hop. Non ci credo, no. A Torino cosa capita. Adesso c'è un tizio che gli può stare vicino. Vediamo se lo sveglia. Lo guarda. Non capisce neanche lui. E va avanti. Ma cosa sta facendo? Ma cosa sta accordinando? Lo guarda. Non capisce neanche sto tizio. Guardate. Oh. Si è svegliato. No. No, non capisce neanche sto. Ma cosa sta facendo?